Trattativa Pandolfo di Villa Paiera forse ha una svolta decisiva. L'annuncio è delle ultime ore. Proprio ieri sera, stamattina, è arrivata la convocazione di un tavolo per il prossimo 26 di novembre. Accogliamo con favore questa convocazione e ci auguriamo che sia una convocazione utile per trovare soluzioni. Non vogliamo tavoli per discutere in eterno, vogliamo tavoli che portino risultati. In funzione di questo abbiamo sospeso gli scioperi già programmati per domani e dopodomani e quindi aspettiamo il 26 per valutare quali saranno le disponibilità dell'azienda rispetto alle nostre rivendicazioni. I sindacati non arretrano però sulle richieste già avanzate all'azienda e che riguardano sostanzialmente l'armonizzazione dei contratti tra i due stabilimenti feltrini. Noi abbiamo qui uno stabilimento che fa parte della Pandolfo Aluminio. La Pandolfo Aluminio ha due stabilimenti in provincia Belluno, uno qui a Feltre e uno a Lentiai. Storicamente quello a Lentiai ha delle condizioni salariali migliori rispetto a quelle di Feltre e noi con questo sciopero, con gli scioperi che abbiamo fatto anche nel mese scorso, rivendichiamo la necessità che i lavoratori di Feltre abbiano le stesse condizioni dei lavoratori di Lentiai. Vogliamo che le condizioni salariali e non solo salariali, anche normative dei lavoratori di Lentiai siano equiparate a quelle di Feltre. È una battaglia di dignità, di giustizia. Uno sciopero, quello di oggi, che ha fatto storcere il naso a qualcuno in un momento tanto difficile per il nostro paese e in cui molti lavoratori stanno perdendo il proprio posto. Rispondo che quando i lavoratori scioperano, scioperano perché hanno dei motivi validi. I lavoratori di questa azienda soffrono ormai da anni una condizione di peggior favore rispetto a quelli di Lentiai e quindi per scioperare oggi vuol dire invece una dimostrazione di grande dignità, pur in una fase così complicata e difficile, per ripristinare una condizione di giustizia dei lavoratori di Feltre.